Dopo l'iniziale slittamento di due settimane dei principali campionati dilettantistici Umbri, la settimana scorsa il Comitato Regionale ha deciso un ulteriore slittamento di sette giorni. Si dovrebbe dunque tornare in campo domenica prossima, 30 di gennaio. Il Sansepolcro affronterà al Buitoni il Massa Martana. Intanto il club Biturgenze ha approfittato di questa lunga sosta per ricaricare le pile e recuperare gli indisponibili. Le sedute di allenamento del team di Davide Mezzanotti si sono svolte regolarmente, seppure con scrupoli e attenzioni maggiori. A fare il punto sulle varie attività è stato il presidente del sodalizio bianconero, Giorgio Lacrimini. Ci siamo ovviamente attenuti alle direttive della federazione, che ha disposto il fermo delle gare. La scuola calcio ha ripreso le attività, ma solo con determinate annate, essendo vari tesserati ancora in quarantena. L'ultima partita ufficiale dei bianconeri risale ad oltre un mese fa con la vittoria esterna in casa dell'Ellera grazie al gol del giovane Boriosi. La prima squadra sta svolgendo un lavoro in famiglia, con lo staff che ha organizzato un lavoro atletico e tecnico per far sì che i giocatori possano presentarsi alla ripresa del campionato nelle condizioni ottimali, ha detto ancora il presidente. In casa bianconera dunque si attende solo il definitivo ok degli organi federali per concludere il campionato, possibilmente senza nuovi stop. Appuntamento dunque domenica al Buitoni, quando arriverà il Massa Martana.